Si pedala, addominali Cominciamo a scaldarci 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora 8, 7, 6, 5, 4 Laura? È una bicicletta quella? Ma mi sembrava un coso così a me No? Ancora 4, 3, 2 e... Gli ultimi 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 Prendiamo il nostro elastico Volevate già abbandonarlo eh? Fermi immobili, isometria 4, 3, 2 e 1 Porto le ginocchia vicino al petto e allungo un po' Petto e allungo Petto e allungo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 Mi gira e streccio Ok, ritorno, seduta, ritorno con l'elastico Scendo Scendo, twist e qui Solo da una parte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e ancora un po' 8, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 Cambio parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora un po' 1, 2, 3, 2 e 1 Fanno male anche le braccia Ok, schiena a terra Semplicemente crunch Che questo quasi fosse un recupero Ora, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, e uno Questa volta, quando faccio crunch, sulla gamba Ok, andiamo sempre alla solita gamba Un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, ancora otto, sette, sei, cinque, 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 cinque. Quattro Tre Due Centro Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Ottro Otto Otto Sette Sette Sei Cinque Quattro Tre Due E uno Cambio gamba Ottro Due 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 Tre Quattro Cinque Cinque Sei Sette Sette Piano Otto Che fretta avete Otto Sette Concentratevi Cinque Quattro Tre Due 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 E uno Centro Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sei Sette Sette 8, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Stop! Ci mettiamo su un lato. Da qui porto le ginocchia al petto e scendo. 1, 2, vedete voi il braccio dove lo dovete mettere? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e ancora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e si cambia. Cercate di avvicinarvi il più possibile con le ginocchia al petto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ancora 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Non è finita, ci mettiamo ancora a terra, allora proviamo a fare questa cosa qui, come se fossimo ponte. Ok, da qui stacco una gamba e crunch, giù, crunch, qui, crunch, sempre la stessa, due, tre, quattro, cinque e porto il gomito al ginocchio, sei, sette, otto, otto. Sette, sei, cinque, quattro, tre, due e uno. Scendo, cambio gamba, salgo, vado. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e ancora otto. Sette, sette, sei, cinque, quattro, tre, due e uno. Sto, sto, sulle gambe, mani sotto i glutei, sforbiciate. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Sforbiciate, otto, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, otto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, ancora apro e chiudo. Ancora sforbiciate, due, l'ultima serie, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e ancora otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due e uno. Apro e chiudo, otto, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, stop. Ginocchio al petto, mi rilasso. Dondolo sulla schiena e mi siedo qui. Ciao. Mento il petto, srotolo la colonna pian pianino, gira le spalle. Gira le spalle. Sì, 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 sì.